Siamo particolarmente felici perché abbiamo aperto una flagship nel cuore commerciale di Napoli. Noi eravamo già presenti in una laterale del quartiere, in via Kerbacher, quindi siamo trasferiti con un negozio più grande, circa 2000 metri quadri, più bello speriamo e anche più tecnologico. Infatti le novità che abbiamo apportato a questo negozio a insito nel suo DNA è proprio la possibilità per esempio per i clienti di trovare la taglia in qualsiasi momento. Quindi abbiamo la possibilità di far, nel caso non ci fosse la taglia, di poterla trasferire in poche ore da qualsiasi parte d'Italia ricevendola da parte del cliente sia all'interno del negozio che addirittura a casa. Puoi per esempio comprare sul sito e ricevere la merce direttamente in negozio e quindi se hai l'app per esempio, se scarichi la nostra app, puoi da solo vedere le caratteristiche del prodotto. Quindi puoi fare scanner digitale per vedere se la taglia c'è e verificare quali sono le caratteristiche del prodotto. Quindi insieme a queste tante innovazioni anche digitali come i display che vedi alle mie spalle e tante altre cose che rendono il nostro progetto, noi lo chiamiamo omnicanalità perché ormai i clienti lavorano, comprano, vivono sul cellulare quindi devi stare in contatto con loro e quindi rispetto all'idea di avere che la gente pensa che il digitale sia comprare sul web, in verità ne parliamo di multicanalità. Questo negozio ha, la nuova OVS ha una struttura commerciale un po' differente dalle OVS che siamo stati abituati a vedere. Stiamo accogliendo dei nuovi brand nazionali e internazionali quindi non c'è solo prodotto disegnato da OVS ma accogliamo brand come Converse, come lo stesso Piombo, c'è Clio, Makeup che entro fine mese aprirà il suo primo corner all'interno di OVS. Sono tanti brand che hanno deciso di lavorare con noi e noi li accogliamo molto 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 volentieri. Questo è il millesimo negozio di OVS in Italia quindi è un numero importante e la Campania per noi è una terra particolarmente fedice in quanto siamo presenti con oltre 140 negozi. Diamo lavoro tra negozi diretti e francesi a oltre 600 persone. Questo store, che è circa 2000 metri quadri, dà lavoro a oltre 20 dipendenti, siamo 23 collaboratori. Quindi la Campania come numero di negozi è la prima d'Italia per OVS. Abbiamo fatto un 2021 straordinario e quindi siamo particolarmente felici e questo ci dà anche la forza, l'orgoglio e il coraggio di investire in nuovi negozi. Questo negozio che è una flagship ovviamente abbiamo investito quasi intorno ai 2 milioni di euro e ovviamente venendo da risultati positivi vedi che il cambiamento all'interno del negozio è dovuto anche agli investimenti che fai e siamo particolarmente contenti di quello che è accaduto l'anno scorso in un anno di pandemia pieno, ottenere i risultati che abbiamo comunicato per noi è sicuramente un orgoglio.